Occuparci. Mi serve una barra lunga il resto del mio kit, altrimenti non potrò riparare la barca. Ok, ci penso io. Lara ti sta raggiungendo. Aspettala. Lara? No, no, mi arrangio. Vado. Manteniamo il silenzio radio. Alex, che stai facendo? È tutto bruciacchiato. Chissà di chi era. Chissà di chi era. Chissà di chi era. Chissà di chi era. La straniere è morta! La straniere è morta! La straniere è morta con quell'ultima natura. Ha ucciso Vlad durante il rastrellamento. Eh? Ha ucciso uno dei russi? Non solo uno. Ha fatto fuori anche Dimitri e Nicolai. Questo lo sa. Sta smantellando la stessa nave con cui è venuta. Credo sia ancora all'oscuro di lui. Appena scopre che i suoi fratelli sono morti. Già. Per fortuna non siamo laggiù. Il tuo gran figlio di tuttana narra di Maddo. Per fortuna non siamo laggiù. Per fortuna non siamo laggiù. Capere. Per fortuna non siamo laggiù. Capere si fatica. Che fa! Che fa! Questa è vera! Dovremo essere attenti. E ai tutori cosa racconterete? Non pensarci. Diremo che è impazzito e si è mutato. Ma gli hai sparato? Dettagli, fratello. Non troveranno mai il cadavere. Cazzo, fratello. Era proprio necessario. Era una rotuna di palle. Non ne potevo più. Reggina del sole qui, reggina del sole là. Preghiere e cantilene di continuo. Stavo impazzente. Bastava una botta in testa. Ho perso il controllo. Questo posto mi nervosisce. Ok, ma cerca di controllarti. Vedi di non rompere anche nulla. Capito? Ok, calmo. Qui mi serve aiuto! Attenzione! Faccio vedere io! Ti faccio vedere io! Spacciato! Stai spacciato! Adesso morirai! Stai via! Stai via! Stai via! È sottotiro! Cambiamo posizione! Porta! Stai via! Stai via! Stai via! Stai via! Stai via! Stai via! Cazzo, fratello. Era proprio necessario. Era una rottura di palle. Non ne potevo più. Regina del sol qui, regina del sol di là, preghiere e cantilene di continuo. Stavo impazzendo. Bastava una botta in testa. Ho perso il controllo. Qui mi serve aiuto! No, no, no. veniva impiegato dai calligrafi della corte